tanto non mi aspettavo un'accoglienza così, quindi ringrazio tutti quanti l'obiettivo di quest'anno è quello, tutte le domeniche, di vedermi così allo stadio Poi adesso invece che l'Europa pensiamo ad andare a Poggia, pensiamo ad andare a Lecce, pensiamo ad andare a Città e di tornare a casa con delle gran belle figure, io penso che tutti questi ragazzi qua, penso che con l'allenatore, il staff tecnico E' il mio salto! E' il mio salto! Ehi! Ehi!